Martin Heidegger, un filosofo che attrae le giovani generazioni, perché? Io come professore sto facendo una riflessione perché ultimamente mi sono reso conto che mentre prima i filosofi che affascinavano di più potevano essere Kierkegaard, Freud, Schopenhauer, Marx, Hegel, elementi politici, elementi del pessimismo ma comunque di una riflessione sull'esistenza, Nietzsche, un filosofo che continua comunque ad affascinare tantissimo, mentre Heidegger era un filosofo che veniva digerito male perché in questo periodo storico Heidegger piace così tanto? Non ho una risposta, la risposta che mi do è che leggendo anche il libro di Galimberti su l'ospite inquietante, il nichilismo che sta attraversando l'anima delle giovani generazioni, le giovani generazioni stanno cercando delle risposte che la filosofia non può dare e quindi la complessità di filosofi come Heidegger, come Derrida, come Levinas che stanno affascinando sempre più, io parto da Heidegger ma anche questi filosofi generano un fascino importante perché comunque mettono di fronte alla possibilità della complessità, alla possibilità del nichilismo e quindi il fatto del nichilismo che loro sentono dentro l'anima non è una colpa, non è qualcosa di deprecabile ma fa parte di questo periodo storico e come tutte le cose che fanno parte di un periodo storico in qualche modo vanno vissute, vanno analizzate, sedimentate, elaborate e Heidegger ti fa vivere questa dimensione, ovviamente un Heidegger che secondo me filosoficamente può essere denazificato ovvero la parte filosofica di Heidegger può essere denazificata, non può essere denazificata la storia di Heidegger perché purtroppo l'adesione è chiara anche se ci fu poi tardivi ritorni indietro ma detto questo ovviamente nella filosofia non compare, non compaiono elementi di antisemitismo, elementi di violenza ma compare questa riflessione profonda sul senso dell'essere che è una riflessione che i ragazzi stanno facendo in questa fase storica, i ragazzi si domandano se la loro esistenza che per loro ovviamente è così importante questo esistere, questo esserci, questo passare al piano ontologico al piano ontico in qualche modo possa avere un progetto che non è un progetto razionale, non è un progetto lineare, non siamo più nel tempo del boom economico, non siamo nel tempo in cui uno può costruirsi in modo lineare, chiaro, causa-effetto il proprio futuro ma siamo in una fase dove bisogna vivere all'interno di questa complessità e il progetto deve essere un progetto esistenziale, emotivo e quindi la domanda da fare è che l'essere fa l'esserci e l'esserci risponde che per la ricerca del senso dell'essere, il circo del menetrico poi individuato anche da Gadamer risuona forte nei ragazzi perché la domanda è voglio intanto essere una persona profonda o voglio vivere nel mondo della chiacchiera e lasciarmi guidare in questo mondo all'interno di questo nichilismo cioè voglio usare il nichilismo per trasformarlo in qualcosa che possa diventare progetto il progetto non è la carriera, non è la relazione sentimentale, il progetto è arrivare a capire la profonda autenticità e i ragazzi sono affascinati da questa possibilità più alta della realtà che Heidegger annuncia nella dimensione della ricerca del prendersi cura di sé, di prendersi cura del mondo e di vivere con questa sorta di imminenza della morte, ma questa imminenza della morte non come elemento negativo ma come la possibilità della fine delle cose e quindi dare un senso più profondo al proprio vissuto quindi sempre di più Heidegger sta diventando un filosofo per le giovani generazioni che senza svolte politiche ma con una ottica proprio di dimensione esistenziale che poi è una dimensione che anche Heidegger stesso rifiuta perché Heidegger si legge più in una chiave ontologica piuttosto che in una chiave esistenzialistica pura perché nel progetto di Heidegger c'è una fine perché due domande rimangono, due interrogativi non sono risolti, ovvero possiamo andare verso le cose stesse come le chiedeva il grande maestro Husser, oppure la domanda su chi ha presupposto il senso quindi non avendo una risposta chiara non si può nemmeno definire un esistenzialista puro un altro filosofo che sicuramente affascina la giovane generazione, Jean Paul Sartre dove il progetto esistenziale diventa un progetto esistenziale anche di engagé, di impegno ma in questa fase storica questo tipo di impegno neppure nell'ottica del movimentismo, del gruppo infusione nonostante Greta, nonostante i movimenti per l'ambiente sembra attecchire più di tanto quindi occorre riflettere su questo qualcuno legge il pericolo, il pericolo appunto di una chiusura nel privato, nel proprio progetto esistenziale qualcuno vede una possibilità di prospettiva per dare un senso al proprio nichilismo grazie